Aumentano gli arresti in flagranza così come le denunce anche a carico di minori in crescita i sequestri di droga e le chiamate al 113 da parte dei cittadini. Il bilancio barese dell'attività della Polizia di Stato durante le celebrazioni per il 171esimo anniversario. Il Sud ha smesso di essere il bacino demografico dell'Italia e la Puglia non fa eccezione ai dati istat relativi alle nuove nascite segnano un calo di natalità soprattutto nella BAT. E' un vero e proprio inno alla vita quello con cui l'attore barese Sergio Rubini sostiene la campagna del 5 per 1000 per l'istituto Giovanni Paolo II di Bari. Questa mattina la presentazione della campagna. Benvenuti a questa edizione del nostro Tg in diretta su Antena Sud dedicato alle province di Bari della BAT e Foggia. Iniziamo con la festa della Polizia. Emergono dati interessanti. La Polizia di Stato diventa popolare quanto emerge dal 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. I cittadini ricorrono sempre più frequentemente al 113. Ci sono tante denunce, molte in più rispetto agli anni precedenti, ma vediamo nel dettaglio quello che è successo durante le celebrazioni di quest'oggi sia a Bari che a Foggia nei due servizi firmati da Brandonisio e Davola in rapida successione. Aumento delle denunce, maggiori sinergie con territorio e distituzioni per favorire la sicurezza. Questi alcuni dei temi che hanno caratterizzato la mattinata a Bari nel 171esimo anniversario della Polizia di Stato. Al teatro Margherita presenti autorità religiose, civili e militari, ma anche tre scolaresche di alcuni istituti secondari superiori della città. Spazio quindi alla lettura dei messaggi istituzionali e dalla premiazione per quei poliziotti che maggiori si sono distinti in operazioni giudiziarie e di pubblico soccorso, presenti inoltre stand espositivi con moto storiche ed una pattuglia ipomontata. Noi cerchiamo sempre di metterci il massimo impegno, cercando di ottimizzare quelle che sono le risorse e di valorizzare quelle che sono le specificità e le competenze di tutte le forze di polizia, in particolare in questo caso della Polizia di Stato che, come il questore ha ben esposto a molte specificità, molte particolarità e tutte impegnate a favore della sicurezza per garantire ai cittadini sempre maggiore sicurezza. Bilanci e punto della situazione affidati anche al questore Signer e dal sindaco De Caro che spera in un rafforzamento del personale. In un periodo così difficile, dove tutte le pubbliche amministrazioni hanno dovuto fare i conti con il blocco del turnover, siamo riusciti a incrementare la nostra presenza nelle strade, la nostra presenza ai posti di polizia, abbiamo aperto un nuovo posto di polizia, sono aumentati gli arresti in flagranza. Abbiamo visto premiare tanti funzionari, tanti operatori di sicurezza per delle azioni che sono state fatte nell'area metropolitana di Bari, nella nostra città. Mi sono sentito di ringraziare attraverso il questore, il prefetto, tutte le donne e gli uomini che si occupano della nostra sicurezza e ci accompagnano anche in questo percorso di crescita sociale ed economica dalla nostra città. Una terra che aiuteremo a classificarsi per la sua straordinaria bellezza, attraverso la quale è possibile vincere tutti i mali e le storture della società. Questo è uno dei messaggi più profondi e positivi che il questore di Foggia, il dottor Ferdinando Rossi, ha condiviso con la comunità in occasione dei festeggiamenti per il 171esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Cerimonia solenne ma appassionata, svoltasi all'interno della Sala Tribunale di Palazzo Dogana, sede della provincia di Foggia. Una festa che ha coinvolto oltre che le principali istituzioni e autorità del territorio, anche studenti e cittadinanza, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in Piazza 20 Settembre, dove per l'occasione è stata posizionata un'emoteca per una speciale raccolta di sangue organizzata in collaborazione con l'Avis Comunale e il Policlinico Riuniti di Foggia. Questa terra ha un grande desiderio di riscatto perché è una terra che non deve essere classificata e qualificata per i fatti criminali che purtroppo accadono, ma deve essere classificata per le sue grandi bellezze. Questa è una realtà che ha veramente delle bellezze profonde, radicate nel territorio, che connotano il territorio in maniera pregnante e indelebile. E si è conclusa poco fa la cerimonia che si è tenuta a Castel del Monte, organizzata dalla Questura della Sesta Provincia, la Batta. Abbiamo raccolto uno stralcio delle dichiarazioni e lasciate al nostro microfono del questore. Pellicone. C'è grande attenzione da parte del Ministero, progressivamente è stato inviato personale e contiamo nel giro di un tempo ragionale di riuscire a raggiungere il pieno organico. Come diceva lei, è un territorio molto impegnativo e proprio per questo c'è bisogno di grande impegno da parte di tutti noi. Presenti anche le scuole e i licei del territorio in questa giornata così importante, è un messaggio anche significativo per le nuove generazioni. Sì, noi abbiamo dovuto coinvolgere anche la gente, la cittadinanza, gli studenti che sono protagonisti, devono essere protagonisti assieme a noi del sistema sicurezza. Quindi questo è il messaggio che vogliamo mandare. Ragazzi che devono imparare ad essere protagonisti della sicurezza e con loro vogliamo condividere questo momento di festa per noi. E cambiamo argomento, apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca. Sono state riaperte le indagini nell'abbattere, stando dunque sul territorio della sesta provincia, sul caso Casale. Ce ne parla Maria Fiorella. Archiviazione rigettata ai nuovi termini di indagini. Continuerà dunque la vicenda giudiziaria per la morte del giovane chef Raffaele Casale, deceduto in un impatto frontale con la sua moto all'alba del 16 agosto del 2017, in via Martiri di Palermo a Trani. E la decisione del GIP del Tribunale tranese, Luciana Altamura, a seguito dell'ennesima opposizione della famiglia alla richiesta del PM di nuova archiviazione del caso. Decisivi i nuovi elementi portati all'attenzione della Corte da parte dei legali della famiglia Casale, che attraverso papà Felice continua a chiedere giustizia per suo figlio. Raffaele aveva 28 anni quando è rimasto vittima dell'incidente in moto, i cui contorni, secondo familiari e tribunale, al momento restano avvolti dal mistero. Da allora sono passati quasi sei anni, nel mentre c'è stata una prima archiviazione del caso, la riapertura del fascicolo di inchiesta e due richieste del PM di archiviazione nonostante le indagini suppletive, già disposte da tempo dal GIP Lucia Anna Altamura. Lo stesso giudice, che dopo l'udienza camerale del 14 marzo scorso, ha chiesto una nuova proroga delle indagini, visto anche il cambio di PM, titolare del fascicolo. Al momento c'è un'unica indagata per omicidio stradale, una donna quarantenne, moderata la soddisfazione di papà Felice, che tuttavia ha accolto con soddisfazione la non archiviazione del caso. Ora ci aspettiamo magari nuovi indagati, ha dichiarato Felice Casale. Per risolvere ulteriori indagini, infatti, è necessario ampliare la platea di coloro i quali potrebbero aver sbagliato. I familiari continuano a contestare la catena di errori e false dichiarazioni, oltre ai mancati interventi su quella strada, via Martiri di Palermo, su cui la moto di Raffaele ha smesso di correre. Restiamo nella batte per proseguire la cronaca. Sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte di Michele Mastrorillo. Lo farà ufficialmente, ricordiamo, Mastrorillo è il 43enne, ucciso a Canosa sabato scorso con un colpo d'arma da fuoco al torace. Ancora Fiorella. Il caso sulla morte di Michele Mastrorillo, il 43enne, pregiudicato di Canosa di Puglia, trovato senza vita nella mattinata di sabato 8 aprile, dopo che un proiettile lo ha colpito dal torace, potrebbe risolversi nelle prossime ore. È stato infatti conferito ad un medico legale l'incarico di eseguire l'autopsia sul cadavere dell'uomo. L'esame autoptico potrebbe confermare l'ipotesi investigativa ritenuta più probabile, ovvero che si sia trattato di suicidio. Gli stessi investigatori non escludono però che possa trattarsi di un decesso provocato da un colpo partito accidentalmente, mentre l'uomo maneggiava la pistola. L'arma, illegalmente detenuta, è stata trovata e sequestrata nella camera da letto dell'appartamento della zona Torre Caracciolo, in cui il 43enne, con precedenti per spaccio di droga, furti ed oltraggio a pubblico ufficiale, viveva con mogli e figli e in cui era agli arresti domiciliari. Stava scontando una pena definitiva di 8 mesi e tra circa un mese avrebbe scontato la condanna per un episodio risalente a qualche anno fa. Nell'ambito dell'inchiesta aperta contro i gnoti dalla procura di Trani per istigazione al suicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco, i poliziotti hanno sottoposto la prova dello stub moglie e figli alla ricerca di eventuali tracce di polvere da sparo. Secondo quanto emerso finora, a dare l'allarme è stata la moglie che dormiva accanto alla vittima e che è stata svegliata dal rumore sordo di colpi di pistola. I figli sono accorsi nella stanza dei genitori e hanno soccorso e portato l'uomo in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sotto sequestro sono finiti anche l'auto usata dai familiari e i loro cellulari. Ancora cronaca, neanche il tempo di inaugurarlo che è stato già oggetto di atti vandalici. Succede in provincia di Foggia, a Carapelle, dove è stato vandalizzato il campo sportivo polivalente che nei prossimi giorni sarebbe stato inaugurato dall'amministrazione comunale. Su questo argomento abbiamo ascoltato il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele. Sentiamo Antonella Davola. Questo è un campetto che l'amministrazione comunale è riuscita a farsi finanziare e a costruire. È stato affidato ad una società sportiva, la quale doveva in questi giorni partire con le prenotazioni per giocare a tennis, pallavolo, calcio a 5, per giocare a pallacanestro. Una società che doveva, tra virgolette, smistare il traffico per poter giocarci. In settimana avremmo fatto una festa di inaugurazione. Purtroppo abbiamo trovato lo scempio perché abbiamo dei bulletti che vanno vandalizzando il paese e hanno pensato bene di vandalizzare questo posto. Hanno tagliato i figli delle telecamere, quindi non riusciamo neanche a individuare chi è stato. Tuttavia faremo in pochissimo tempo in modo tale che venga rimesso, ripristinato e consegnato invece a chi, a quella parte della popolazione che non merita di non poter godere di strutture come questa per colpa di pochi. Abbiamo comunque provveduto a fare una denuncia contro i gnoti. Siamo venuti con i carabinieri a fare un sopalloco stamattina. Scriverò al prefetto perché c'è la necessità di rafforzare il presidio e di fare in modo che questa gente venga prisa e paghi i danni che provoca. Residenti e commercianti di Andria alle prese con i cantieri dell'interramento ferroviario e del mercato ortofrutticolo. Il sindaco Giovanna Bruno fa il punto sullo stato dei lavori da completare entro la fine dell'anno. Cantieri in corso di svolgimento ad Andria con i residenti e i commercianti che hanno recentemente manifestato il proprio malumore per alcune zone del comune federiciano imbrigliate dai lavori di manutenzione. Caso ultimo ma di grande clamore mediatico è quello dell'interramento ferroviario che ha messo alle strette Piazza Bersaglieri d'Italia e Via Vaccina con una corsa contro il tempo per chiudere le operazioni entro il 2023 e non perdere i fondi stanziati per l'ammodernamento della stazione. Le operazioni proseguono anche dopo l'apertura della stazione di Andria Sud mentre si attenderà il 2026 per ripristinare il collegamento con Barletta. Il sindaco Giovanna Bruno ha fatto il punto della situazione anche per quel che riguarda un'altra area della città sottoposta a modifiche strutturali sotto i riflettori. Infatti il mercato ortofrutticolo che insiste sull'area di Via della Costituzione, Via Catullo, entrambe le arterie sono state ultimamente recintate per garantire la messa in sicurezza del cantiere. Via alle attività di bonifica a partire dalla settimana post-pascuale prelie condizioni meteo favorevoli. La Giunta inoltre ha deliberato il piano di viabilità sostitutiva e provvisoria che interesserà Via Barletta e le strade circostanti per non intaccare i passi in avanti per l'interamento ferroviario. Le scadenze si avvicinano con il primo cittadino che ha chiesto pazienza a residenti e commercianti per il bene futuro di Andria. Intanto in tema di ferrovie e infrastrutture ci sono anche le buone notizie perché c'è l'ok al progetto del nodo ferroviario di Bari Nord. La Giunta regionale pugliese ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale a questo progetto preliminare. Un'opera da circa 633 milioni. Secondo il cronoprogramma, nel 2031 l'infrastruttura dovrebbe essere pronta. Il progetto a poco più di 11 km di linea ferroviaria consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato invariante alla linea adriatica che si sviluppa quasi interamente al di sotto del piano della campagna con realizzazione di due nuove stazioni con conseguenti dismissioni di due attuali scali al servizio dei due quartieri di Palese, Santo Spirito e la soppressione dei passaggi a livello. Il cronoprogramma prevede un iter di 1850 giorni per il completamento dell'opera. Percorso di partecipazione attiva per progettare il nuovo piano urbanistico generale di Barletta. Venerdì la conferenza stampa alla presenza di associazioni di categoria e ordini professionali. Antonio Gargano. Partirà venerdì 14 aprile il percorso di partecipazione attiva alla realizzazione del piano urbanistico generale di Barletta. La conferenza stampa di presentazione che si terrà nella sala giunta del Comune permetterà di illustrare il progetto embrionale di modifica a 360 gradi del territorio grazie alla condivisione di idee e piani di intervento con i principali attori economici e professionali della città. Associazioni di categoria, imprenditori, associazioni ambientali, enti del territorio e ordini professionali avranno modo di esporre le esigenze più stringenti di cui ha bisogno Barletta con l'amministrazione comunale intenzionata a riprendere quanto interrotto nel primo mandato. Già negli scorsi anni, infatti, si era proceduto con l'approvazione del documento programmatico preliminare nel 2019 e la delibera di giunta comunale per l'approvazione del programma di formazione del Pug del 2020, cui è seguita la nomina e l'insediamento dell'ufficio di piano composto da esperti con competenze multidisciplinari. L'iter aveva poi portato a diversi tavoli tecnici che avevano incluso anche gli uffici provinciali, in particolare in tema ambientale, per il piano dell'assetto idrogeologico e per il piano paesaggistico l'obiettivo resta quello di procedere a passi costanti verso un aggiornamento del piano regolatore generale, fermo ormai al 1971 l'incontro di venerdì. Vedrà la presenza del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, e dell'assessore all'urbanistica, Pierpaolo Grimaldi. E adesso vi raccontiamo un'interessante e lodevole iniziativa. Si chiama Tasselli di Pace, il progetto dell'associazione L'Isola che non c'è di Latiano, nel Brindisino, che prevede la consegna a fine mese di un basso rilievo raffigurante San Michele Arcangelo a Kiev, in Ucraina. E intanto questo basso rilievo viene conservato nella cattedrale di Bari, come ci spiega Antonella Fazio. Si chiama Tasselli di Pace, il progetto che dà il nome all'opera in gesso dell'artista pugliese Cosimo Giuliano, destinata a Kiev, che resterà nella cattedrale di Bari fino a questo fine settimana. L'iniziativa porta alla firma dell'associazione culturale L'Isola che non c'è di Latiano, alla quale aderiscono importanti cariche istituzionali, aziende, uomini e donne della società civile. Il basso rilievo rappresenta San Michele Arcangelo, messaggero di pace. La breve permanenza della basilica è scaturita dalla necessità di organizzare il difficile viaggio alla volta della capitale ucraina, passando per la Romania, con un mezzo dedicato messo a disposizione dalla divella SPA. L'opera arriverà a Kiev tra il 25 e il 28 aprile prossimi, ma l'associazione sta già lavorando alla seconda fase del progetto che prevede un viaggio alla volta di Mosca dove il messaggio di pace sarà affidato questa volta a San Nicola, rappresentato in un secondo basso rilievo di Giuliano che sarà esposto sempre in basilica. Noi che siamo qui come chiesa madre di tutti i popoli e vorremmo tanto che questo messaggio è il messaggio di un angelo che ha la parola di Dio e il senso del ciò che è giusto. Sì, è una piccola opera comunque che spero sia per un grande messaggio di pace. Questo percorso che noi abbiamo fatto sia alla cattara di Oria e poi siamo andati alla cattara di Taranto, e spero che questo percorso sia un elemento giusto, un piccolo elemento se vogliamo, per un messaggio di pace, con la speranza insomma che questo piccolo granello possa crescere per portare una grande pace. Colmare il divario occupazionale di genere e imparare le basi di linguaggi di programmazione web. Il Puglia Women Code è il primo progetto di questo tipo nella nostra regione. Saranno in tutto tre i giorni e ci saranno anche degli workshop. Sentiamo Davide Abrescia. Puglia Women Code è il primo bootcamp di formazione per sviluppo web dedicato alle donne, aperto a chiunque abbia voglia di cimentarsi con le materie informatiche, per poter avvicinare le donne pugliesi ad aziende sia locali che multinazionali che stanno cercando talenti e competenze nel digitale e nell'informatica qui in Puglia. Nei giorni dedicati alle donne al lavoro, colmare il divario occupazionale di genere e imparare le basi di linguaggio di programmazione web. Il Puglia Women Code dal 21 al 23 aprile a Bari è il primo coding bootcamp nella nostra regione con l'obiettivo di creare profili pronti per le aziende del territorio, ma non solo. L'iniziativa è organizzata dalla Puglia Women Lead in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari nel segno di un settore, quello della programmazione, in costante crescita. Credo che guarda al futuro partendo prima di tutto da una valutazione dell'esistente e da cambiare le categorie di fine novecento per passare nel nuovo millennio e sapere che il nuovo millennio deve avere una programmazione che ha come punto centrale la sostenibilità, ma mi permetto di dire che la persona deve essere posta al centro di questa sostenibilità per il futuro del tutto il sistema paese. Sarà una tre giorni con workshop dedicati ad HTML, CSS, JavaScript, linguaggi basici di programmazione web, talk ispirazionali e tanto tanto divertimento. Leadership e comunicazione al centro della ventitresima edizione del Rotary Leadership World tenutosi a Bari, cinque giorni ricchi di appuntamenti per giovani dai 18 ai 30 anni, come ci spiega Domenico Brandonisio. Capacità comunicative, creatività e propensione al dialogo, queste alcune delle tematiche al centro dell'edizione 2023 del Rotary Yacht Leadership Awards tenutosi a Bari, presenti giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da Puglia e Basilicata, che verranno sottoposti a cinque giorni di formazione, un modo anche per mettere alla prova il talento di ognuno. Il corso di formazione è abbastanza innovativo, in quanto si basa sul design sprint. Il design sprint è un metodo che si acquisisce, è un metodo che ha una sua componente multidisciplinare e serve per raggiungere una sfida. Ho chiesto ai ragazzi che sono universitari di mettere a punto il loro sapere con questo corso professionalizzante. Il risultato è che mi dicono che io ormai sono quasi 20 anni che eseguo questo RILA, è entusiasmante per i giovani perché innanzitutto li pone nella condizione di apprendere delle dinamiche anche di leaders nella società. Lo dicevamo nei titoli, anche in Puglia si verifica la cosiddetta denatalità. Il Sud ha smesso di essere il bacino demografico dell'Italia, la Puglia non fa eccezione. I dati stat relativi alle nuove nascite segnano un calo, soprattutto nella BAT, calo di natalità. La crisi delle culle, fuori di metafora, una denatalità crescente in tutta Italia e uno spopolamento ancora più radicato al Sud, con una statistica che fa riflettere. La prima provincia pugliese che si aggiudica il non entusiasmante primato del calo demografico è quella di Barletta-Andreatrani, dove i nuovi nati, iscritti all'anagrafe ogni mille abitanti, in 20 anni sono circa il 40% in meno. La provincia con minor numero di natalità nella regione, in cui si evidenzia il dato più basso, 1,26, addirittura sotto la media nazionale. Difatti, mentre a livello nazionale il numero di figli per donna è dell'1,24, nella nostra regione la media si attesta all'1,22. Come calo della popolazione residente rispetto all'anno precedente, tutto il Sud fa registrare i valori più negativi e la Puglia si attesta su un meno 5,6. In un rapporto decennale la Puglia perde oltre 8.000 nati l'anno. Il calo diventa addirittura di 14.000 unità in confronto a 20 anni fa, 40.145 le nascite nel 2002. I dati Instat relativi alle nuove nascite segnano in tutto il paese un calo di natalità di valore storico, per la prima volta dall'Unità d'Italia e i nuovi nati sono sotto le 40.000 unità. L'Italia del 2050 sarà quella che già oggi cominciamo ad intravedere, un paese con pochi giovani, poche famiglie con figli, tanti anziani, dove sarà difficile trovare nuove leve da inserire nelle professioni vecchie e nuove e mantenere un welfare decente per chi nel frattempo sarà andato in pensione e avrà bisogno di cure mediche e non solo. Oggi la fascia di età tra i 18 e i 34 anni copre circa il 17% della popolazione. E' un vero e proprio inno alla vita, quello con cui l'attore barese Sergio Rubini sostiene la campagna del 5 per 1000 dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari. Questa mattina la presentazione della campagna. Vediamo il servizio. Difendi la vita con noi. Un vero e proprio inno alla vita, quello che vede il protagonista Sergio Rubini, l'attore originario di Grumo Acola nel barese, ha deciso di sposare la causa dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari per la campagna del 5 per 1000. La struttura del capoluogo negli anni scorsi ha contribuito alla ricerca scientifica con numerose pubblicazioni e ricerche che hanno avuto riscontri a livello internazionale. Inoltre le sperimentazioni in corso offrono migliori chance di cura per i pazienti grazie a protocolli terapeutici all'avanguardia insieme a collaborazioni e scambi con i migliori centri di ricerca di tutto il mondo. Lo faccio per un ospedale, per una comunità che è anche la mia e stamattina quando dicevo parto per un attore dice vado a fare uno spettacolo, vado a fare una regia ecco sono venuto a dare qualcosa, non a prendere ma a dare e questo mi inorgoglisce tantissimo. Noi abbiamo svolto circa, abbiamo arruolato oltre 5.000 pazienti negli ultimi 3-4 anni, abbiamo fatto un numero incredibile di pubblicazioni soltanto nel 2022 abbiamo superato 120 pubblicazioni, abbiamo fatto 230 trials clini. Sergio Rubini è l'esaltazione della vita e della Puglia qui oggi si festeggia la vita, non la malattia la presenza di Sergio testimonia la vita e il recupero della salute che ad alcuni manca. Un vero e proprio spazio di condivisione con mostre ma anche laboratori e musica live Spazio Murat 2023 si rinnova e diventa un nuovo contenitore culturale della città di Bari ci spiega tutto e meglio nel prossimo servizio. Antonella Fazio Progetti espositivi, laboratori rassegne, momenti performativi e musica live non solo mostre dunque Spazio Murat 2023 con un'identità visiva oggetto di restyling per affermare lo stretto legame con il Puglia Design Store ha in programma di allargare l'offerta a cominciare da aprile sino a fine anno Spazio Murat cresce e ora intende consolidare la sua importanza in termini di promozioni culturali e per la città ambendo a diventare laboratorio per sperimentazioni artistiche che anticipano il trend del futuro la finalità è quella di scoprire e coinvolgere le realtà che sul territorio si occupano di arte e cultura contemporanea e promuovere la condivisione di saperi e delle professionalità inoltre tra le novità 2023 di Spazio Murat spicca poi il restyling della sua identità visiva e la card amici di Spazio Murat una tessera che consolidi rapporti con il suo pubblico e metta in essere vantaggi reciproci programmazione di otto mesi all'interno di un'attività nella nostra città nello Spazio Murat che è stato il primo spazio culturale che è stato riaperto spazio che fa parte del Polo delle Arti Contemporanee è stato il primo luogo dove è tornata l'arte contemporanea è tornata la cultura è stato anche il primo luogo dove abbiamo provato a sperimentare una partnership nel partenariato pubblico privato una programmazione multidisciplinare diciamo una programmazione che tiene conto di varie visioni di vari sguardi ed è il motivo per cui abbiamo invitato diversi curatori e curatrici diverse artisti che hanno anche timbri e strumenti artistici differenti e con questo servizio si chiude anche questa edizione provinciale di Bari o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti